Federico Chiesa ha subito un grave infortunio di ginocchio. Dalla moviola si apprezzano stress in valgo del ginocchio sinistro che cede completamente. Infatti gli sani diagnostici confermano la lesione del legamento crociato anteriore. Nei casi più gravi è necessario l'intervento chirurgico e la riabilitazione potrebbe durare più di sei mesi, ma si spera bene. Buon recupero!